L'inviato in reloggeria.it presenta Casio SGV100 semplicemente outdoor. Guarderanno con invidia gli altri componenti di Casio ProTrek, la famiglia in cui sono nati. Sono i più giovani ed anche i più piccoli. Sono i nuovi Casio ProTrek SGV100, dedicati a chi di strada ne deve fare ancora, prima di definirsi escursionista. Con elementari modalità di termometro e bustola digitali, ma accattivanti nell'estetica, nel loro piccolo sono capaci di funzioni quali quelle di wartime, cronometro, timer e ben 5 allarmi giornalieri. Due le versioni in cui viene offerto, con cinturino in morbido ma tenace tessuto o durevole gomma.